la desertificazione un pericolo reale nel nostro paese per l'agricoltura per il turismo per l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e nel mondo pensiamo all'africa dove l'aumento della desertificazione fa esplodere i flussi migratori dobbiamo intervenire con durezza e lo dobbiamo fare subito vi aspetto che oggi trentesima giornata mondiale della lotta alla desertificazione il nostro governo sia capace di dare una risposta chiara ai rischi che ci sono che sono grandi e alla water scarcity la mancanza d'acqua che nel nostro paese rischia di creare grandissimi problemi dobbiamo agire subito e io personalmente da ministro dell'ambiente sono stato proprio in Mali dove una bellissima iniziativa del governo italiano all'epoca è riuscita a ridurre la desertificazione a far cessare i flussi migratori da quell'area del continente africa